Signori, ragazzi, figli miei, siamo giunti alla fine e dal passato, perché questa mia versione è il me del passato, vi faccio un augurio e vi invidio perché voi state vedendo questo episodio l'1 settembre, se non sbaglio. Comunque i primi di settembre, la prima domenica di settembre, quindi vuol dire che dal vostro punto di vista, nella vostra linea temporale, l'estate, e già gli sgoccioli, diciamo, mancano 20 giorni per voi alla fine dell'estate e The Sims è giunto alla fine perché era una piccola miniserie estiva. In questo ultimo episodio cercheremo di realizzare il sogno di Andreina, quella di essere ricca, di possedere una casa della Madonna, come? Sposando Maurizio, aveva già ucciso sua moglie, quindi adesso è vedovo, è sul mercato, è sulla piazza, io dovrò prendere una doccia per levarmi il sangue oppure andremo in giro col sangue, non so se comporterà qualcosa tipo Yandere Simulator, ma è fatta, ragazzi. Tutte le cose finiscono, anche questa piccola serie che è stata un po' un piccolo break da quello che succederà più avanti, pochi eletti di voi che guardano sta serie, l'ho già accennato la volta scorsa, è in modo molto fumoso che il canale, o meglio, ci saranno delle novità per quanto riguarda me nel futuro, in questo nuovo inizio di autunno 2024, pur ritrati verso 2025. Ci sarà comunque un video dove cercheremo di spiegarvi tutto a riguardo, ma bando alle formalitàe, direi di continuare, perché Paolo Terminator è qua. Andreina è devastata col sangue, però scusa, perché... Eh no, vedi, perché con la vasca non posso, però se dovessi prendere la doccia, vediamo, se dovessi prendere la doccia... Così a caso... Allora, idraulica... Dammi un doccino, questo qui... Lo metto qua in centro, vediamo se me lo va a fare... Eh sì, vedi? Vabbè, taglio, perché ovviamente sarà nuda, e ci vediamo quando mi sarò tolto il sangue. Ok, mi sono tolto il sangue, ho rivenduto anche la doccia... Aspetta, ecco, il parquet, il parquet della madonna, la doccia l'ho rivenduta perché è una doccia in centro al soggiorno, non penso sia... Ah, è vero, c'ho questa roba qui che potrei vendere. L'avevo trovata l'altra volta, sto cubo. Non lo fai vendere, vabbè. Asciuga anche là, brava. Ora, volevo farle prendere un po' di Xanax, vai. E anche farle fumare una sigarettina. E direi che... Allora, è venerdì, quindi io domani non vado a lavoro, perfetto. Sono stato più in malattia che a lavoro, però vabbè. Io direi di iniziare a porre le basi per... Lo sposalizio. O no? Eh, che cazzo. Eh, che cazzo. Aspetta che non mi sentite, mi sa. Così, la, 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 la. Ah, ok. L'audio. L'audio. Il problema, il villain principale dei miei video. Sa, sa, sa. A posto. Che cazzo vuole, Paolo? Che c'è Paolo? Che c'è Paolino? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Diamo un dolcetto. Diamo un dolcetto. Una sigaretta, Paolo. Che c'è? Oh. Oh. Poi, amichevole. Che vuole? Fa una ramezzina sul bevuto della pozza. Sì, sgridiamolo perché deve imparare. Deve imparare. E, eh, calma Paolo. Calma Paolo. Ok, l'ho calmato. Siamo diventati buoni amici di Paolo Terminator. Perfetto. Allora, iniziamo a porre le basi dello sposalizio. Allora. Andiamo, andiamo al velluto blu. Sì, andiamo al velluto blu, vai. Con Maurizio. Andiamo con Maurizio. Andiamo con Maurizio, vai. Vai. Sono pronto a sposarlo. Ciao, Maurizio. Ah, ovviamente lui piange perché è morta la moglie. Chiacchiere. Rallegra. Vai, rallegriamolo noi. Ci pensiamo noi. Che opportunista che sia. Molto triste. Eh, lo so, lo so. Adesso una botta di coca. Affetto. Abbraccia. Abbracciamo, abbracciamo. Abbracciamo. Ma sì. Ma sì, ma sì. Allora, chiacchiere. Condividi. Parla del matrimonio. Controlla come sta Maurizio. Vediamo. Sentimento acquisito. Il tuo compagnia spero che sia anche per te. È certo, ma è certo. È certo. È certo che mi piace stare. Esprimi ammirazione, vai. Che succede? Che è successo? Che cazzo era quel suono? Oh, guarda. Vuoi unirci? Senti una giornata dello sport. No, ma che cazzo mi frega dello sport. Fa male lo sport. Elisa Pancake. Dina Caliente. Dina, attenzione. No, ma a caso. Allora, Maurizio se n'è andato. Non ritorna più. Direi di ordinare da bere. Altre scelte? Ordino una bevanda per il gruppo, vai. La offro anche a Maurizio. Assenzio. Minchia, costo un botto l'assenzio. Però spigne. Spigne. Virgin, no. Screwdiver. Coquito. Gin Tonic. Gin Tonic, vai. Anche se... Mi ho sempre fatto cagare il Gin Tonic. Ma non so se ho mai un amante dei cocktail, in realtà. Cioè, se vado in un locale preferisco magari farmi una biretta. Che i cocktail, cioè, o vai nei locali dove li fanno proprio bene, ma... Tipo, vabbè, B52, questi cottoli un po' strani che ne bevi una volta ogni tanto. Ci stanchi. Manca un Coke Jack, che è un po' da tossici, però va bene. Però, sinceramente, quando... Al giorno d'oggi se vado in un pub mi bevo una birra, una pinta, barra due. Va bene così. Però magari quando ero più piccolino, verso i vent'anni, ventun'anni, se c'era quella serata dove dovevi festeggiare, dovevi sbronzare, bevete responsabilmente, se guidate non bevete, mi raccomando. O se bevete non guidate. Però, quando ero più piccolino, magari se partiva quella serata dove dovevo sbronzarmi, andavo di liscio, cioè mi prendevo gli sciottini. O i cicchetti, come li chiamate al sud. Come li chiamate giù. E così, perché c'è un brecastico di cocktail, perché devo essere miliardario a Milano per un brecastico di cocktail, perché uno, anacquatissimo, ne costa 8 di euro. Manca di più in certi posti. Però, sinceramente, ora come ora, se devo uscire, se bisogna andare in un locale, preferisco farmi una biretta, una bella marfinera. Una bella stout. Eh, passo alla paura. Se bevete le ipa, non rivolgetemi la parola. Va, adacci, beve le ipa. Infatti non mi deve rivolgere quelle parole. Comunque bevi, Andrina, brava. Tira giù. Ok. Ok, a posto. Ah, ma ci sto provando. Questa qua è una rivale, potenziale rivale. L'ammazzo o no? Allora, droghe. Compra la droga. Polvere. NERCSCHA SHERARG. Com'è che me la... Coca-Cola, no. Coca-Cola, droga. Sono così generoso, allora. Dai, yeh. Allora, questa la tira. Ehm... Don Lotario, attenzione. Don Lotario, grandissimo personaggio. Vai, Maurizio. E... Andreina, vai. Che è successo? Perché c'è scesa l'attrazione? Che c'ha? Perché hai incazzato? Che cazzo gli hai preso? Ti hai preso il down, giovane? Quella co... Che è successo? Tristezza condivisa. Ah, perché è giustamente un po' preso male per la morte della moglie. Non ha tirato, Maurizio. Penso di no, perché... Ah, no, sì. È fiducioso. È fiducioso. Allora, facciamoci una sigarettina. E poi, direi, di iniziare a porre le basi. Per flirtare. Tanto siamo audaci ora. Con la Coca funziona. Stiamo perdendo... Stiamo perdendo relazione con Maurizio. Perché è amichevole. Proviamo a farlo... A scherzare. Comportamento frivolo. Abrazzata sui poliziotti. Abrazzata sui poliziotti. Beh, lui è un pusher. Vi farà sicuramente più scena. Diciamolo ridere, dai. Diciamolo ridere. Affetto. Abbraccia. Dai, Maurizio. Su, su, su. Dai, non fare così. Flirt. Battuta dal brudaggio. Poni domanda spinta. Manda un bacio. Vai. Dai, Maurizio. Su. Eh. Affetto. Professo amore a te. Confesso l'attrazione. Invita a restare... Dai un regalo romantico. La lapide di sua moglie. La lapide di sua moglie. Linee di cocaina. No, allora non c'ho regali romantici da darli, dai. Non c'ho regali romantici da darli, sinceramente. Allora. Amichevole. Complimenti. Supporta barbe e baffi, vai. Quando un uomo fa i complimenti sulla barba, va in brodo di giugiole. Attività. Chi è di passare il tempo insieme, chiacchiera, l'allegra. Parla del matrimonio, impara, conosce. Affetto. Fammi vedere affetto. Esprime ammirazione. Altre scelte. Altre scelte. Dov'è romantico? Romantico. Intimità fisica. Baccia. Stringi. Baccio suave. Proviamo a fare un bacino. Ah, è bisogno. Cosa che ha fatto? Il caschè. Mi chiedevi andare a farla pipì, Andreina. Andare a farla pipì. Vai a pisciare, vai a pisciare. Fai la pipì come una campionessa. Vabbè, giustamente. Giustamente. Vai, Andreì. A posto. Ce ne sta dando, Maurizio? Mi, 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 mi dà il palo così. Aspetta che lo fermo. Romantico. Flirt. No, intimità fisica. Baccio. Maurizio, fermati. Quella sta pisciando da due ore. Ebbè, è un po' abbattuto, Maurizio. Beh, è morta la moglie. Aspetta. Ok, si è fermato. Si è fermato. Si è fermato, Maurizio. Raggiungi, Andreina. Corri. Corri. Se ci fosse la pioggia sarebbe una scena bellissima. Ok, a posto, un bacio volante. Oh, non ti libererai di me. Ho bisogno dei tuoi sop. Una volta che gli abbiamo fregato casa, gli ammazziamo. Lo ammazziamo, quindi siamo i figli. Progenie del male. Affetto. Ma non posso, non posso, non possiamo. Dichiare amore pubblicamente. Non possiamo, tipo, fidanzarci. Stiamo un po' forzando la mano, mi sa, vero. Chiedi di diventare... Eccolo qua, dove era. Chiedi di diventare... Chiedi di sei single. Facciamo finito. Facciamo gli ignorati. Maurizio è single, giustamente. Gli è morta la moglie. Eccola qua, dove minchia era. Quello cercavo. Chiedi di unirti all'unità familiare. Chiedi di diventare partner romantico. Prima vediamo se funziona. Yeah, sono diventati partner romantico. Ora facciamo relazioni. Chiedi di unirti all'unità familiare. Quella sta pisciando. Clicca su ok per... Convivenza. No, andiamo noi. Andiamo noi da... Da loro. Andiamo noi da loro. Anche Paolo. Vieni tutti gli arredi nell'otto. È fatta, è fatta, ragazzi. Sì, controlliamo la famiglia alberghini. Oh, c'è il villone. Ale, ci siamo. Ci siamo. Io direi di tornare a casa. Martina, alberghini. Che poi in realtà possiamo anche non ucciderli. Visto che li controlliamo. E gli è morta la madre. Io direi di fare una piccola cosa. Ah, è vero che c'ho il... C'ho il... Il del sì del liceo. È peccato. In un'altra vita magari fare un... Prendi la luna. È diventato Bloodborne. Visto che gli è morta la... Madre. Visto che gli è morta la madre. Ah, non c'è la... Non c'è la rimazione sulla sedia. Non c'è la rimazione. Che cazzo ho fatto? L'ho pagata. Mi sa che l'ho pagata tantissimo. Ma facciamo... Porta qui Andrea Tossichella. Abbiamo completato la pietra miliare. Porta qui Maurizio Alberghini. Là. Siamo ricchi. Guarda quanti soldi abbiamo. Via. Martina Alberghini. È morta. A posto. Perché è morta la madre giustamente. Non so se si può fare sinceramente. Non so se si può fare con i bambini... Con i piccolini ovviamente no. Con i piccolini ovviamente no. Ah, odia... Guarda il cagnolo... Paolo odia i figli. Però beh, noi siamo energici perché abbiamo pippato con i bambini che sono rimasti qui. La figlia più grande che si è ammazzata. Vabbè, appena crescono. Appena crescono ragazzi. Ci sarà da divertirsi. Comunque come posso notare OBS nonostante l'aggiornamento è ancora fuori sincrona con l'audio. Buono così. Quindi mi spiace ma... Non so veramente come risolverla sta cosa. Ok. Abbiamo casa. Abbiamo casa. Ora controlliamo Maurizio. Io direi che visto che controlliamo Maurizio... Allora... Dove c'è? Dov'è l'inventare? No, ok. Non c'ha anticoncezionali. Perfetto. Perfetto. Ora. Andrina, visto che adesso hai i soldi, sai cosa devi fare? Devi apprendere il telefono. Troche... E... Muta i clienti. No, come si faceva? Come si faceva? Wicked. Ceretta lingua in termina la gravidanza. Trattamento di fertilità. Il trattamento di fertilità ci starebbe secondo me. Infatti andiamo a farlo. Poi volevo mandare la riabilitazione. Giustamente. Adesso che si arricchi. Vai. Ci pompiamo la fertilità. Maurizio. Amichevole. A carezza. Aspetta che... Aspetta che devo comprare anche delle robe per Paolino. Devo comprare delle robe per Paolino. Qua. Allora. Ciotolina. Anzi no, prendiamo questa. Automatica. Adesso si arricchi. Vaffanculo. E... La metto... Qua siamo in cucina. Yes. La metto qua. Aspetta che là. La metto proprio davanti alla finestra. Poi dobbiamo prendere anche la cuccia. Letto. Questo qua. A posto. E la metto qui. In salotto. Magari non davanti alla libreria. Ma qua. A posto. Il luogo di Paolo. Il luogo di Paolo c'è. Ora. Visto che abbiamo figli e madre. Figli e madre morte. Attenzione. Devo dire di metterle in giardino. Mettiamogli in giardino. Al povero Maurizio. No. Perché qua non me le fa. In teoria dovrebbero diventare. Bare all'aperto. Non so perché questi ha. Ok. Ci sono diventate bare. Perfetto. Bastava posizionare. Allora. Via sto cespuglio. Vendi. 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 Faccio un po' di. Un po' di contegno. Per queste. Poveri anime. Ok. Martina Alberghini. La mettiamo qui. Poi. Aspetta un attimo. Daniela Alberghini. La mettiamo qui a posto. Ci abbiamo. Le bare. Le bare della famiglia. Della famiglia. Oh va che bella. Incidile pitaffio. Poi ci saranno i fantasmi. Incidile ripose in pezzi. Rest in pieces sarebbe. Bellissimo. Funziona di più in inglese. Torno subito. Ok. Come. Come barbieri. Qua invece. Vorrei che fossi qui. Qua invece metto. Tranquilli. E solo. Sonno. Arretrato. Ok. A posto. A posto. Dovrei fare l'epitaffista. E. Fatta ragazzi. Ce l'abbiamo fa. Quando una donna. Di successo ce la fa. Per quello. Per quello. Ora. Il figlio qua. Che abbandona da se stesso. Su. Sul marciapiede. Maurizio. Eh. Non va bene. Abbiamo una nuova mamma. Siete contenti? Siete contenti? Mettiamolo qui. Valerio. Metti Valerio giù qui. Due maschi tra l'altro. Due maschi. A posto. Ce nemmo il cammino? No. Che poi prende fuoco casa. Eh. Riempi vai. Riempi. Riempiamo lì. La ciotola. Trattamento di fertilità. Fatto. Ok. Ora sinceramente vorrei mandarla in riabilitazione. Come si faceva? Appuntamento dal dottore. Mi so. No. Allora forse bisogna far così. Guarda. Droghe. Eccola qua. Riabilitazione. Vai riabilitazione. Mille. Mille. Ok. Ci leviamo le dipendenze. Ci leviamo le dipendenze. Almeno. La facciamo. La facciamo diventare una donna di successo. Andreina. Noi essendo spacciatore abbiamo la droga a disposizione sempre. Vediamo. Non lo so. Non credo. Non credo. Non credo. Ok. Ok. Perfetto. Perfetto. Flirtante. Eh sì. Fra un po'. Fra un po' vedrai. La cura del bebè. Ripulisci. Ripulisci. Ripuliamolo. Poverino. Ok. L'han pulito. A posto. Questo qua diventerà un genio. Diventerà Elon Musk. Che sta giocando già gli scacchi da piccolo. Di cosa c'è bisogno? Sono le due. Sarebbe anche ora di andare a letto. Non credi? Allora. Questa qua è la stanza della figlia. Immagino. Questa è la stanza dei genitori. In quante case stanza ha sto luoco? Questa è la stanza del piccolo genio. Vai. Dormi. Dormi. Ora dovremmo comprare anche un lettino però. Aspetto perché. Dove cazzo lo mettiamo? A dormire il bebè. Allora. Bambini. Bambini. Letti. La culla. La culla. Eccolo qua. Eccola qua. Allora. Prendiamo un divano che uno basta e avanza. Ok. Eccolo qua. Il box. Qualche giocattolo per sti poveri bambini. Dovrei ucciderli però mi sto intenerendo. Miniatura del vessatore. Miniatura del vessatore. Che è patriota. No. Allora. Prendiamo lì. Un giocattolo. Un box dei giochi. Glielo giriamo. E glielo mettiamo qui. Qua poi sarà la camera. Pover pover pover. Poi la camera dell'adolescente era qui ovviamente. C'è anche un tablet. Guarda. Grande come casa mia la camera. L'ex camera di Martina. C'è pure un piano. Guarda qua. Il bagno è devastante. Non possiamo prendere una jacuzzi. Ascoltatemoci bene. Maurizio. Fai lo spilorcio. Non c'è una jacuzzi gigante. Eccola qua. Eccola qua. Madò. 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 Vasco idromassaggio. La metti davanti alle barre. La non vorrei mettere. Ok. Qua. Potremmo fare anche la pc. Però scusa. Se la mettessi. In casa non è meglio. La vasco idromassaggio in casa. Può rimedere la piscina. Eh. E due supercar no? Troppo grande per il bagno. E se la mettessi a posto il pianoforte. No dai. Mettiamola qui. Mettiamola qui. Anzi se cosa faccio. Guarda che t'appaccio. Guarda che t'appaccio. Là. No non c'è spazio mi sa per la piscina. Va bene così. Va benissimo così. Ok abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Io direi di tu. Te ne stai andando a letto vero? Sì. Tu prendi tuo figlio. Mentre la tua ragazza. La tua giovanissima Andreina. È in riabilitazione. Tu prendi tuo figlio. Mettilo a letto. Qua. Riproduci la nana. Ci vuole la giostrina. È vero che minchia i bambini sono un delirio. Perché? Perché questo ha figliato prima di morire. Giostrina. Giostrina. Ok. Ma dove cazzo l'ho messa? Non c'è? Ah è vero. C'è bisogno pure del seggiolone. No no. Nelle cantine. Ah allora potrei farla sotto terra la piscina. Effettivamente. Allora il seggiolone glielo metto. Glielo metto. Più possibile lontano. Vabbè dai mettilo qua. Mettilo qua. Mettilo qua. Al posto. Dovrebbe esserci spazio. Il bello sto frigo. Le anticaglie. E. Prendi tuo figlio. Prendi tuo figlio. Come si fa? Cura del bebè. Metti a letto. E' richiesto un letto. Questo che cazzo è? Scusa. Allora. Arrivo eh. Culla. 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 Eccolo qua. Eccolo qua. Sarà questo. Quello mi sagherà. Un'altra roba. Ok. Ora funziona. Ora funziona. Cura del bambino. Fai il bagno. Metti a lei. Ma perché? E' richiesto un letto per. Ah perché non è un neonato. E' già un bebè. Ok. Quindi. Che devo fa? Letto per bebè. Sarà questo? Vabbè allora dai. Vi faccio già la sua stanza. Affanculo rosa. Poverino. Sarà confuso. Anche se comunque. Vabbè. Può decidere quello che. Può decidere la sua fluidità come vuole. Però. Facciamo. Facciamo. Facciamo la stanza rosa. Valerio. Ok. Così. Vabbè. In realtà basta eliminare questo. Solo le tende. Dai va bene. Va bene. Ci sta. Un bellissimo colore. Il viola. A posto. A posto. A posto. Metti Valerio a letto. Vai. Vai a dormire Valerio. Vai a dormire. Vai a dormire. A posto. A posto. Dormi. Dormi. Ma che bello. Dormi. Dormi. Pensavo lo stesso per soffocare. Vabbè. Vai a dormire pure tu. A posto. Andrina. Nel frattempo di riabilitazione. Ti sta curando. Ti sta curando dalla troca. Appena finisce. Appena finisce. Io direi anche di lasciare il lavoro. Dov'è anche di lasciare il lavoro. Adormi si arricchi. Abbiamo bisogno di lavorare. Ok. Maurizio. Che è successo? Che è successo Maurizio? Perché non ha dormito? Ah no. Siamo su Andreina. Dammi Maurizio. Dammi Maurizio. Ha bisogno di... Ha bisogno di... Innanzitutto docina. Anzi bagna. Ma a me mi sta sul cazzo la vasca. Perché non compriamo una vasca doccia? Almeno facciamo... Adesso non mi ferma nessuno. Non mi ferma nessuno. Guarda avanti sul dio. Questa. Questa. Sia doccia che vasca. Perché non me la fa mettere? Ah perché c'è... Sta roba. Ok. Insomma praticamente uno deve arrampicarci per prendere l'asciugamano. Ma qua c'è il balcone che è sul bagno. Minchia il balcone... Il balcone in bagno è una merdata. Perdonatemi. Vabbè sta roba la vendiamo. Tanto è inutile. Ok. Fai la doccia. Fai la doccia. Fai la doccia. Vai. Vai vai vai. Vai Maurizio vai. Primo passo verso il recupero. Andrei nella prima sessione. Inizia la nuova sessione. Ok. Quindi dovremmo fare più rehab. Dovremo fare più rehab. Reabilitazione iniziata. Vabbè. Ci andremo dopo. Ma Paolo è qua. Si sveglia Paolo. Ma perché è qua? Perché dorme qua Paolo? Perché non può entrare in casa. Perché non può entrare in casa. Cura dell'animale. Prendi in braccio. Mettiamolo qua. L'abbiamo fatto dormire sul marciapiede. Ma brutti animali. Brutti vergognosi. Ok. Sì vabbè voglia di Xanax. Però sei in riabilitazione Andreina. Direi che non è il massimo. Faccio una cosa. Cioè sapete già cosa sto per fare no? Ok ho fatto quello che dovevo fare. È vero. Devo quittare dal lavoro. Adesso lo faccio. Sto facendo la doccia Andreina. Quindi non inquadro. Attività. Lascio al lavoro. Maffanculo. Allora Maurizio è sempre triste. Ah va è morta la moglie giustamente. Ovviamente ho fatto quello che dovevo fare. Spero che... Ah i bambini li sono svegliati. Bene direi di far da mangiare ai bambini. Facciamo da mangiare ai bambini allora. Serve il brunch. Uova e toast. Lascio al lavoro. Perfetto. Tu Andreina. Tu Andreina lo so che... Avresti bisogno di dormire. Fai un pisolino vai. Ah c'è proprio scritto. Aspetta un attimo. Aspetta una cosa. Aspetta una cosa. Aspetta una cosa. Test di gravidanza. Andreina non è incinta. Vabbè forse devo fare... Forse devo fare probabilmente questo. Sì perché allora ci sono più modi per farlo il figlio. Appunto lo fai nel vecchio... Ah fumi. Non ti stavi di riabilire... Vabbè la sigaretta dai non è troppo. Beh in realtà sì. È comunque una dipendenza però. Falla fumare. Falla fumare. Dove cazzo è? Valerio. Prendilo. Cura del bebè. Dai cibo. Ma chi cazzo è? Vieni Valerio vieni. Vieni. Cura del bebè. Ok lo stai già facendo. Brava brava. Portalo giù al sigiolone. Vai. Portalo giù. Portalo giù. A posto. Ora mangia. Paolo ha mangiato. Paolo ha mangiato. Vabbè riempiamogliela. Andrà da solo. Dovrebbe andare in rehab vero? Vabbè la seconda sezione. Però prima di andare alla seconda sessione. Aspetta. Questo sta cucinando. Ha già cucinato questo. Yes. Allora. Poison food. Attenzione. Prendi la porzione per... Chiamatavola. Vai. Chiamatavola la famiglia. Vai. Mangiate. 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 Mangia pure tu. Vai. Allora. Maurizio. Prendi Andreina. E fai quello che devi fare. Su. Vai. A posto. Bravi. Ah perché ci sono più modi per farlo. Si può usare il vecchio modo di The Sims. Che appunto clicchi. Cerca di avere figlio. E loro. Molto probabilmente. Vediamo se. Al massimo censuro. Si fanno l'animazione. L'animazione classica. Di The Sims. E dovrebbe accadere qualcosa. Maurizio deve andare a pisciare. Vai a pisciare. Andreina tu. Vai in riabilitazione. Se no appunto si può fare. Si può fare nel modo della mod. Che bisogna effettivamente. Farlo come nella vita vera. Vabbè questa sta dormendo. Falla dormire. No vabbè. Alza ti devo andare. Il rehab. Vai. Vai vai. Tu piscia. Bravo bravo. Libera il bambino. Libera il bambino. Perché se no sta. Tutto il giorno. Tu lava i piatti. E gioca con tuo fratello. Vai amichevole. Affetto. Conforta. Vai. Ripulisci. Vai. Ripulisci. Ripulisci. Dov'è Paolo? Ah vado Paolo. Amichevole. Offri amicizie. Vai. Dove cazzo è andata a lavare i piatti? Ah ok. Era in cucina. Dai gioca. Giocate. Giocate. Cura dell'animale. Non si può. Amichevole. Abbraccio confortante. A posto. A posto. Bravi. Allora quella si sta. Intossicando. Tu quando devi andare a lavoro. Non ci va. Andreina. È pronta a disintossicare. Vabbè io di ridecelerare un po'. Ah è andata. È andata in intimo a fare. Il recupero alla grande. Ok. La sessione finale ci vorrebbe. Però prima di andare alla sessione finale. Io direi di. Andare a dormire. Vai. Dormi. 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 Eppure tu. Tu. Ormai che stai diventato. Diventato l'uomo di casa. Alessandro qua. Allora. Metti Paolo giù qui così piscia. Vai. Devi farlo qua. Ah non può. Non può. Non può. Non può. Non può perché. Sti cazzo di fiori di merda. Via. Apriamoci un giardino. Ah ok. L'ha messo giù. Bravo. Cura dell'animale. Chiedi di fare i bisogni. Vai. Piscia. Piscia. Vai. Bravo. Davanti alla porta. Complimenti. Gioca nella pozza con Paolo. Sarebbe una roba incredibile. Bravo. Cagatina. Ora. Cura dell'animale. Prendi in braccio. Vieni. Vieni. Bravo. Lo mettiamo qua. A posto. C'è casi scale. C'era che quando cresce. Cresce. Penso di sì. Riesca a salire le scale. Il figlio di il bambino è diventato radioattivo. Vabbè lo mettiamo a letto. Non può andare a letto. Può salire le scale. Come i cani. Dormi. Vai. Molto autosufficiente. Sto bambino. Tu come la principessa. Vai. A dormire. Qui. Ah. Chiedi di nebulizzare il mostro sotto il letto. Per i bambini. Ok. Perché c'è sempre un mostro sotto il letto. Andare all'ultima seduta di riabilitazione. Vai. L'ultima. Su. E poi ben fatto Andrino. Poi dopo proviamo ad avere sto cacchio di figlio. E tra l'altro il bambino è radioattivo. Bisognerebbe lavarlo. Alessandro ci si è svegliato. Bravo. Divertimento. Divertimento. Non c'è un computer sto poveraccio. Sto vero bambino. Ma qua tipo. Non li posso mettere. Ma qua. Che cazzo di. Ah ma questa è Daniela Alberghini. Quindi giù chi cazzo c'è. Giù chi cazzo c'è. Chi è questo. Ah ma è Hattintong. Vabbè Hattintong. Hattintong ce lo mettiamo nell'inventare. Il primo. Non il primo omicidio. Il secondo omicidio. quella che ha scrivato Pao. Questa è Daniela Alberghini. Ok. Ahia. Quindi c'era l'urna di sua madre in camera. Il povero bambino. Vabbè. Ci sta. Ci sta. Allora. Facciamo lì uno studio. Poverino. Dov'è? C'è? Aspetta magari. Non proprio davanti alla finestra. Così. Ok. Sedia da ufficio. Sedia da gaming. E cosa va? Cosa va? Secret Lab. Ok. E un bel pc. Un bel pc. pc da streaming. Questo qua. Non ci sta. Perché? Questo. Vai mettiamo anche questo. Con due scherme. Oh. Esercita nella battitura. Cazzo vuol dire? Internet. Chiacchiera. Social network. Gioca una partita. Vai. Gioca aritmetico. Così diventa un genio matematico. Vai. Vai. Gioca. Gioca. Pcgenius. Io ci giocavo da piccola. Pcgenius. Quasi quasi. Ci faccio una serie su Pcgenius. Allora. Si è svegliato. Maurizio. Direi di cucinare. Da mangiare. Sembrava una persona. L'armatura. Mi è venuto un piccolo soffio al cuore. Allora questo lo ripuliamo. Ma se avremo il cibo lo dai bambini? Ci li leviamo dalle palle secondo voi? Perché no? Per sapere. Magari adesso ci trovo. E allora se faccio Poison Food vediamo. Quello è mio. Che non è avvelenato. E faccio. Prendi la porzione per Valerio. Prendi la porzione per. Ok. Quindi adesso se io vado a mangiare. Prendi il bambino. No beh allora sto bambino. Sto bambino direi che è troppo piccolo. Per fare quello che sto per fare. Però il genio matematico. Ci sta. Scusa. Tu innanzitutto. Scostumato. Prendi il tuo figlio. E fagli il bagno. C'è manco in Breaking Bad. Cura del bebè. No controlla. Cura del bebè. E. Fai un bagno. Vai vai vai. A posto. Perché era verde il bambino. Stava mettendo fumi verdi. Grabba Splish. Ok. Quello sta andando a lavoro. Lui ha mangiato. Penso di sì. Vediamo. Vai. Assume un babysitter vai. I bambini sono immuni al veleno forse. Vediamo. E invece no. E invece no. E invece no. Un altro. Sento il padre stavolta. Non so che andrei. Via. Ok. Ok. Perfetto. Perfetto. Andiamo. Mettiamone vicino la mamma e la sorella. Una tragedia. Una tragedia. Una tragedia devastante. Via. Ripuliamo tutto. Tutto. La morte è inevitabile. Ma è vivo. Ah no. Questo qua è quello piccolo. Mi sono toccato addosso. Ah questa è la babysitter. Andrina è uscita dalla dipendenza. Tranne dalle sigarette. Comunque penso sia la dipendenza peggiore. Quella delle sigarette. Ok. Abbiamo tolto le prove. Io direi di cucina. Allora. Altre scelte. Il bambino sta mangiando. La babysitter sta facendo. È un pasto veloce. Cereali. Vai. Vai. Mangia. Mangia cereali. Ah. Anche qua dovrei pulire. Guarda che cazzo ha combinato voi lì. Ha ribaltato tutto. Brava. La babysitter lavora. Ma perché va a lavarla. A fare in culo la roba. Ah va a buttare. Cestino in casa no. C'è un cestino in casa no. No. Mangia proprio tosto no. Questo qua. Riponi. Perché sono buoni questi. Non sono avvenenati. Guarda. Ora direi di farci una doccina Andreina. E. Aspetta prima di farmi la doccia. Un po' il sogno di tutti. Ma mi sono messo. La macchina delle sigarette in casa. Così almeno posso comprarmene. Debug. Debug. Cos'è questo? Ah. Il tabacco da. Da. Trinciare. Ma ci compriamo una sigaretta elettronica. Vai. Qua c'è ben tutto. Pacco di sigaretta al mentolo. Pacco di sigari. Pacco di sigaretta al school. Però. Secondo. Perché qua è buggato. La traduzione. Non me la fa. Però. Io ci provo comunque. A prenderlo. Siamo anche le cartine. Cartine naturali. Ok. Vediamo se succede qualcosa. Aggiungi i preferiti. Vediamo cosa fa. Ah beh. C'è il tabacco da masticare. Rilassare. Ah sì. È il tabacco quello da masticare. Questo. Prendi una sigaretta. Vediamo. Ah è comunque. Sono comunque quelle. Quelle. Ho capito. Ah beh. Il tabacco da masticare. Fa cagare. E lo leviamo. La sigaretta elettronica. Svapa. Vuol dire. Di iniziare a svapare. La vedo svapatrice. Andrina. Esatto. Esatto. Guarda. Guardala. Guardala. Ok. Via le cartine. Questo lo colloco qua. Che magari li farei suscitare. E basta. E la taccio pure l'erba. Va bene. Una cannetta ogni tanto. Ok. E poi è fatta pure bene. La sigaretta elettronica. Guarda. Ci vede pure la resistenza dentro. Cioè. Incredibile. È incredibile. La cura nei dettagli che hanno le persone che fanno ste mod. Cioè. Veramente complimenti. Ok. 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 Perfetto. Ho fatto un test di fertilità. La possibilità del 9%. Ma scusa. Quindi non dura così tanto il. Il trattamento di fertilità. Vediamo. Vado a fare adesso. E appena torna. Ecco. Appena tornato Maurizio. Sto andando a farmi il test di fertilità. Ma lui. Cioè. I maschi possono farlo. Assolutamente. Però. Per gli uomini è diverso. Cioè. Non hanno. Cioè. Gli uomini sono fertili sempre. H24. Non è come le donne che hanno. Ovulazione. Cazzi e mazzi. Vabbè. Cerco di. Cerco di. Di avere il figlio come pretesto. Per poi sposarmi. Ok. Ho fatto. Ho espletato. Ho espletato. Cosa c'è Paolo? Non so. Dopo lo faccio. Però devo capire cosa ha Paolo. Un attimo. Che cazzo deve fare? Forse vuole uscire uscire. Siano a cura dell'animale. Facciamogli il bagno va. Facciamogli un bagnetto. Vedo l'ora. Non vedo l'ora che cresci. Così puoi scendere le scale quando vuoi. Vai. Fagli sto bagno. Fagli sto bagno Paolo. Vai. A posto. Ma. Asciuga. A posto. E' giunto il momento. Vediamo. Dai. Dai che stavolta è buono. Ma non. Ma in che stage? Non è possibile. Ma è una truffa. Sono una truffa. I test della fertilità. Vediamo. Sono mille dollari a cranio. 9%. A 9%. Sempre 9%. Mi sa che. Mi sa che. Più difficile del previsto. È molto più difficile del previsto. però dopo tutto quello che abbiamo passato direi che un matrimonio flash a Maurizio potrei chiederlo. No vabbè deve essere l'uomo. Deve essere l'uomo a chiederlo alla donna. Allora romantico. Relazione. Andiamo altre scelte. Relazione. Separati. Proponi nozze. Maurizio è troppo triste. Non c'è problema. Non c'è problema. Cocaina colombiana. Eh sì. Eh sì. Mettila qua. Anche tutte. Metti tutte le righe. Andrina tu non... No perché ti sei appena riabilitata. Maurizio. Due botte. Vai. Ok. Vai Maurizio. Fatene un'altra. Ok. Deve pisciare. Prima facciamolo pisciare. Prima di fare la proposta. Ok. In bagno te la faccio la proposta andrei. In bagno. Allora relazione. Chi di generare il figlio artificialmente. Minchia. Il figlio nato in provetta sarebbe... Sarebbe un villain per... Per il villain per eccellenza. Beh sì. Allora però. Prima di fare un figlio artificiale. Il patriota praticamente. Homelander. Facciamo le nozze. Doh il fantasma. Guarda che coincidenza. Mentre mi sta chiedendo di sposarmi arriva il fantasma. Il fantasma di chi è quello? Il fantasma di... È di Daniela. Cosa è di Daniela? È della moglie. Ci siamo ragazzi. Là. C'era con me? Madonna che scena. Perfetta. Guarda infatti vedi che mi odia il fantasma sicuramente. Sì. E mi viene Mick. Madonna. È incredibile ragazzi. È incredibile. Ci siamo sposati. Ora però prima di festeggiare il matrimonio direi di... Prendere Andreina. Fare relazione. Fuggi immediatamente. Ah possiamo sposarci qua. No no voglio proprio un matrimonio. Da re. Siamo andati a generare un figlio artificialmente. Ok. Adesso Maurizio andrà a don... Vuoi generare un figlio artificialmente con Andreina? Maurizio per me fanno stato all'ospedale? Per avere un figlio con l'aiuto della scienza. Eh sì. Eh sì. Eh sì. Maurizio sta per avere un figlio. Ma che schifo. Da dove gli esce? Da dove gli esce? Questa in realtà sta sfondando casa giustamente. Ah la madre surrogata. È la madre surrogata. È tipo Bloodborne. I grandi esseri. I grandi esseri. Allora. Maurizio ha appena partorito una femminuccia. Ma che è? Un parto alieno. Un parto... Da dove l'ha partorita? Ma che schifo. Non si chiama alberghini. Si chiama Tossichella. Nome. Nome. Visto che è un parto... Un parto Bloodborneano. Di chi... Di chi... La chiamerei... Eh... Come posso chiamarlo? Lilith. Il primo della progenie del mare. A posto. A posto. Dov'è il figlio? Dov'è la bambina? Vero? Ah vero. Adesso Andrina deve andare a sgravare. Immagino. Ma è qua. Ah è comparsa. Giustamente è comparsa. È comparsa qua. A casa. Ok. Abbiamo Lilith. Abbiamo Lilith e Tossichella. Finalmente. Partorita da un uomo. La prima bambina al mondo ad essere partorita da un uomo. Ora direi di coccolarla. Che schifo Paolo però. Andrina è tornata. Bene. Allora. Via. Asciuga. E sostituisci. Non siamo ricchi. Che schifo. Ma che schifo. Ok. Abbiamo un figlio artificiale. Un android praticamente. Perfetto. Perfetto. E direi di organizzare il matrimonio. Organizzare il matrimonio. Lo organizzeremo al velluto blu. Dovrei comprare un botto di coca. Perché al mio matrimonio voglio la coca. Allora. Non è più un pusher. Produce birra. Assegna PNG. Spacciatore. Assegna come spacciatore. E no perché. Giustamente. Essendo parte della famiglia. Non posso. Non posso. Essendo parte del nucleo familiare. Vabbè. Chiameremo Travis. Il nostro caro Travis. Sto cazzo di fantasma. Posso esorcizzarlo. Droghe. Posso farla. Posso far pusher lei. Vediamo. Fantasma pusher. Non credo. Perché non me lo dà. Non me lo dà. Ma cos'è questo? Un furry? Catrina Lynch. Non me lo dà. Non me lo dà. Peccato. Violenza estrema. Non posso fare niente. Ok. Ok. Allora. Prima in braccio a Paolo. Che sennò rimane. Confinato. In bagno. Per il resto dei suoi giorni. Portiamolo giù. Io direi adesso di. Assestarci un attimo. Poi domani. Organizzeremo il matrimonio. Ma che. 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 Tristezza. Ma il. Il fantasma della. Non ho fatto in tempo a riprenderlo. Perché era accelerato. Ma il fantasma della madre. Ha interagito col figlio. Ma è orribile sta cosa. Sono un mostro. Sono un mostro. Vabbè. Però comunque sta ritornando. Come vedete sta ritornando. Tra l'altro fuma. Perché è morta. È morta. Che schifo. Ha rotto la vasca. Idromassaggio. Va tutto verde. È morta con. Col fuoco. Quindi fuma. Alessandro. Martì. Martina si è suicidata. Alessandro è morto avvelenato. Lei. L'unico fantasma è lei. Perché è morta. In una morte che The Sims prevede. Questi due non hanno fantasmi. Perché sono morti. Una. Una si è suicidata. In The Sims normale. Non si può fare. E l'altro è morto avvelenato. Piange il figlio. Perché è triste. Non posso allattarla al seno immagino. No perché. Non ho avuto una vera gravidà. Anche perché ha partorito. Ricordiamo che ha partorito Maurizio. Potrebbe allattarlo. Allattarlo a Maurizio. Allora. Cura dei neonati. Scegli la preferenza di nutrizione. L'allattamento al seno. Però non posso allattarla. Come faccio? Chi l'allatta? Scusa. Ok. Ha finito? Sì. Ha finito. Anche se non è una roba pornografica. Ma non voglio rischiare. E' fatta. E' fatta. Quindi. Mettila giù. Mettila giù. Vai. Perfetto. Organizziamo sto cazzo di matrimonio. Allora. Sociale. Organizza. Pianifica evento nuziale. Oh. Nozze. Vai. Perfetto. Facciamo ste nozze. Sposo. Sposo. Clicca qui per invitare un sim. Travis. Invitiamoli tutti. Invitiamoli tutti. Guido Abate. No. Cos'è? Fornitore di catering. Guido Abate. Sì. Assumi per il ruolo. Assumamone uno. Mixologo. Musicista. Assumamone uno. Residenza degli alberghini. Amici per sempre. Museo. Bar. Lounge bar. White Springs. Parco. Parco. Museo. Bar. Scusa. Belluto blu. Non possiamo farlo. Eccolo qua. Belluto blu. Dove. Dove tutto è iniziato. Perfetto. Dove tutto è iniziato. Ci siamo ragazzi. È la fine. È la fine. Più o meno siamo. Alla fine. Durata un botto sta puntata. Cioè avrò molto da togliere. Facciamola durare quanto basta. Che spavento. Sembrava nuda. Da qua. Dall'immagine. Ci siamo. Ci siamo. Dov'è Travis? Eccolo qua. Travis. Allora. Polvere. Benchia vero. Facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Compriamo anche un po' di LSD. Vai. A posto. Poi. Droghe. Direi di prendere un bel po' di... Ma sì. Anche un po' di Estasi. Perché no? Perché no? Borsa di... L'Estasi rosa. Vai. Che matrimonio è. Se no. Droghe. Compra la droga. Cocaina. Vai. Vai che bei tatuaggi che c'è Anderina. Mattoni di alta qualità. 10.000. Bustina di alta qualità. Ti compro. 10 bustine. Quasi 5.000 dollari di coca. Eh beh. Bisogna fare le cose per bene. Allora. Apri. Ok. L'Estasi dov'è? Eccole qua. Apri. A posto. Allora ho aperto la coca. Ho aperto la coca. Quindi io direi di animare sta cazzo di festa. Vai. 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 Un po' di... Prendiamo l'LSD. Prendiamo l'LSD. Ok. Ho preso l'LSD che tra l'altro è l'icona. Guardate come avevo detto nel primo episodio. C'è l'icona della bicicletta. Il Bicycle Day. Allora. L'LSD la mettiamo qui a servizio di tutti. Condividi l'LSD con... Beh. Anche Maurizio direi che la può prendere. Nina. Facciamola prenderla tu. Cioè. Dove. Prefiamo prenderla tutta. Guido Abate. Poi. Direi che... Una botta di cocca ce la facciamo. Sniffa... No 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 no. Va bene una. Che tiene un colpo di me. Condividi la cocaina con... Lei. Con lei. Signorina. Signorona anzi. Signor Raffaele. E direi anche... Travis che ce l'ha portata giustamente. Vai vai. Vai vai vai. Ma com'è elegante Andrina eh. Ale. 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 Ci stanno buggando per andare a pippare. Vai. Ale. Maurizio è occupato. Prendi ferie pagate. Vai. A posto. Un po' di estasi. Ma sì. Ma sì. Vai. Quanto è grosso una pillola di estasi. Questa qua la diamo a... Non possiamo darla a nessun altro. Vabbè la diamo a Maurizio. Prendi la pillola vai. Vai vai vai. Questa la... Questa... Prendila tu questa. Direi che ti prendi pure un po' di lsd Maurizio. Ok. Perfetto. Travis. Travis. Niente. Direi di ordinare una bevanda. Ordiniamo una bevanda. Ordiniamo una bevanda. Sex on the beach. Vai. Sex on the beach. Vai. Prendi il suo cazzo di sex on the beach. Vai vai. Matrimonio dell'anno. Vai vai bevi bevi Anderino. Bevi. Ah sta salendo lsd guarda. Guarda. Che che me l'ha ancora presa lsd. Condividi lsd con... Bassimo Colombo. Nina Callie. Faccia morire qualcuno d'overdoso al matrimonio. Non io però. Apri. Vai vai vai. Altra bamba. Vai. Condividi gocaina con... Debora. Vai Debora. Vai Debora. Dai Debora. Fatti tre botte almeno. Ti vedo un po'. Ti vedo un po'. Vai Debora. Debora. A posto. Peccato che non ci sia Paolo. Vai. Dammi la seconda. E sta per morire vero? Sta per sboccare. La vedo un po'. La vedo un po' impallata. E poi ci sta salendo il trip. Ci sta salendo il trip. Vai vai. Condividi la cocaina. Nina vai Nina. Vai Nina. Qualcuno che vuole altre lsd. Qualcuno che vuole... Vai Anita che mi sembra un po' scarica. Vai. Vai vai. Alla resta si non si può condividere comunque. Peccato. Peccato. Tripp. Andare a si ritrova all'improvviso a pensare che guardare l'elettronica sembra falso. Noioso e fastidioso. Interagire con il mondo e tutta la sua gloria realistica è decisamente meglio. All'improvviso il mondo è tutt'uno con Andreina. Che cazzo vuol dire? Madonna guarda quante robe. Quante robe. Rollando. Rollando duro. Come dire rolling hard però è tradotto di merda. Io sono una creazione. Ah ok è un trip proprio esistenziale. Maurizio ci sposiamo. Ci sposiamo. Allora Travis mi sembra troppo scarico. Dov'è Travis? Vai. Vai vai. Vai vai. Dov'è Deborah? Vai fatti un'altra botta Deborah. Fatti un'altra botta. La chiamavano la tiratrice scelta. Vai. Vai Ale. Ah pur il coca e il tilene ha fatto. Porco giù. Ha tirato giù. Ha tirato giù. Dove stanno andando quelli? Dove andate? Quell'animazione la conosco. Ah ok stanno andando a suonare. Pensavo stessero andando a bombare. Pensavo stessero andando a bombare. Maurizio. Tutti. Allora la signorina con il cappello. Ha bisogno di un po' di LSD. Ha bisogno di un po' di LSD. Ah non la conosco. Peccato non posso condividerla. Signora Rebecca. Rebecca si prende un po' di LSD pure lei. Travis comunque è un drago. Regge tutto. Ha tirato giù chissà cosa. Direi che siamo pronti a sposarci. Altre scelte. Come si fa a sposarsi? Relazione. Sposati vai. Sposiamoci. Giunto il momento. Dai. Piscia. Piscia. Chi ha creato piscia? Sposiamoci. Trip. Maurizio è convinto di essere. Mentre ci sta sposando. Maurizio è convinto di essere parte di una sorta di strano mondo di simulazione. Niente reale. Effettivamente c'ha ragione. Un dramma disegnato dallo stile di Truman Show per tentare a Maurizio da vicino a se è qualcosa di sconosciuto. No c'è più lui. Non è Truman Show Maurizio. Sei semplicemente il protagonista di un videogioco. Oh è fatta. Siamo sposati. Ci siamo sposati. Ci siamo sposati. Vai vai. Oh. Che bello. Che bello. Poi guarda quel. Matrimonio dell'anno. Matrimonio dell'anno. Condividi. Dov'è Deborah? Dov'è Deborah? Ah è vero? Lei non l'ha ancora fatto. Dov'è la signorina? La signorina Deborah. La signorina Deborah. Ah non si può più fare. Non si può più fare. Mi sa che si so... Allora aspetto un attimo. No. Il calendario. Maurizio che è giù. Condividi. Deborah vai. No. E vai. L'ultimo. La prima botta da uomo sposato. Ale. Ale. Quella signorina c'ha un cuore. C'ha un cuore che gli regge. Signori. Con questo delirio ci sono pure i bambini. Non so chi l'abbia portato. Che sto villain? Che sto l'ex lutor della situazione? Questa sta pure fumando una canna. Don lottario. Don lottario. E con questo delirio cosmico direi che Andreina finalmente ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta e... Ce l'abbiamo fatta ragazzi. Siamo arrivati... Che bello. Vusto che è diventato. Siamo arrivati al top. Siamo arrivati al top. Io li metto qui a ballare. Li metto qui a ballare. Vai. E grazie per aver seguito questa serie. Non ci sarà un continuo purtroppo. Anche se comunque è tutto in divenire. È tutto in divenire. Che cosa sta facendo? Ah sta sovrappando Caterina o Anina. Ed è fatta ragazzi. È fatta. C'abbiamo l'alprogine del male. Abbiamo fatto il matrimonio. Siamo diventati una donna di classe. Finisce qui. Non so. Ci sarà un continuo. Magari l'estate prossima ci sarà un continuo di questo salvataggio ragazzi. Grazie per aver seguito Andreina. E... Attenzione. Ah no. Pensavo fosse morta Deborah. Andrina si perde nei suoi pensieri. La sua mente è una cosa che rimarrà per... Per sempre... La sua mente è creata da sola. E ne rimarrà anche la fine della sua esistenza. Sembrano le sfattonate che mi faccio io sotto la doccia. E... Andrina vi saluta. Ovviamente in puro stile... In puro stile serie. In puro stile Andrina direi che... È giunto il momento di... Farci... L'ultimo selfie. Vai. Sì il trip. Il trip. Durante il selfie. Ma sono sudatissimi. Guarda. Si vede che sono sudati. Beh beh. Giustamente dopo tutto quello che vi siete tirati giù. Filtrino. Mettiamo un filtro. Mettiamo il filtro bianco e nero. Mettiamo anche un filtro un po' giovanile. Ok. Signori... È fatta. Signori... È fatta. Grazie per aver seguito l'epopea di Andreina. Ciao. Scro. Miittro.